Ciao a tutti amici, in questo video mi voglio mettere in concorrenza con TradingView e vediamo come riprodurre un grafico di analisi tecnica utilizzando unicamente gli strumenti che mette a disposizione Python. Partiamo dalla fine e vi voglio far vedere un grafico che è già stato prodotto. In questo caso potete vedere un grafico di analisi tecnica con le seguenti feature. Intanto ci sono delle trendline che vengono disegnate automaticamente. In secondo luogo abbiamo la media 21, 50, 200 giorni, naturalmente il grafico a candele e poi abbiamo un sistema che disegna automaticamente i supporti e le resistenze in base alla storicizzazione del prezzo. Poi abbiamo un indicatore per quanto riguarda i volumi con una media 30 giorni per capire appunto se i volumi sono consistentemente sotto la media, un grafico che rappresenta l'RSI e poi un altro di ADX per vedere un po' com'è l'andamento del trend. Naturalmente è possibile aggiungere tutta una serie di altri indicatori e in più questi dati potrebbero essere anche passati da altri algoritmi ad esempio di intelligenza artificiale per cercare di fare delle assunzioni sul trend. Naturalmente rispetto a TradingView che sarà mantenuto da molti sviluppatori, rispetto al lavoro che comunque ho fatto in una giornata, in questo caso non abbiamo un grafico veramente interattivo, è un'immagine però comunque abbastanza definita in cui si può andare in dettaglio anche a vedere gli andamenti del grafico, però appunto non si può passare immediatamente da una visualizzazione ad esempio con candele mensili o settimanali o comunque non è un grafico fatto per analisi appunto intraday. Voglio mostrarvi come poter manipolare questo codice e andare a ricavare i grafici che preferite. Questo qua è il consueto youpiter notebook che utilizzo per le mie analisi. Nell'introduzione naturalmente vi vado a spiegare quali sono gli scopi di questo tacquino e vi cito due articoli che mi sono stati molto utili per scrivere questo codice. Poi si passa la parte con l'installazione automatica delle librerie, qui potete vedere che le principali sono MPL Finance che viene utilizzato per stampare il grafico a candele, poi c'è TrendLN, è una libreria di cui vi ho postato l'articolo in alto che utilizza dei sistemi anche abbastanza avanzati, degli algoritmi abbastanza avanzati per andare a disegnare queste trendline in modo dinamico sul grafico. Y Finance l'abbiamo già visto in un tutorial precedente, serve per scaricare lo storico dei prezzi. Pandas e NumPy servono sostanzialmente per l'elaborazione dei dati. TA invece è una libreria specifica che ci permette di avere degli indicatori di analisi tecnica e Matplotlib è semplicemente quella per andare a stampare i grafici. In questo caso c'è l'import, niente che non abbia già ripetuto e qui c'è la parte più importante per voi che se lo volete usare diciamo a livello di utente e non di sviluppatore. In questo caso va semplicemente andare indicato il ticker dell'asset che si vuole monitorare, deve essere compatibile con Yahoo Finance, ad esempio potremmo farlo Amazon se volessimo monitorarlo. Poi bisogna definire un intervallo per il download dei dati del titolo e poi un intervallo di date entro il quale si vuole stampare il grafico. Questo perché? Perché vorremmo anche valutare resistenze più datate rispetto quelle rispetto all'intervallo di date che viene mostrato nel grafico. Anzi facciamo così, vi metto Ethereum contro dollaro perché questo concetto si nota di più. Poi naturalmente abbiamo la parte di download e manipolazione dei dati, questo viene fatto in automatico quindi vengono inserite le medie mobili in questa modalità qui, la media sui volumi e poi viene stampato l'elenco di tutti gli indicatori implementati dalla libreria di technical analysis e potete vedere che gli indicatori disponibili non sono pochi. Poi vi invito ad andarli analizzare voi stessi. Noi naturalmente ne abbiamo implementati solo pochi di tutti quelli che sono disponibili. Poi abbiamo la parte di definizione delle funzioni, queste tre in particolare sono quelle che ho copiato da Gianluca Malato per andare a disegnare i supporti e le resistenze, mentre questa è la funzione che si occupa di andare a salvare il grafico. Naturalmente per poterla comprendere a pieno bisognerebbe comunque avere un po' di esperienza con pandas e matplotlib e questo sarà oggetto di un altro video. Naturalmente per ogni chiarimento potete commentarmi e io cercherò di fare sempre dei contenuti che siano il più mirato possibile per colmare le vostre lacune. E poi in questa ultima cella qui si vanno identificare i vari supporti e le varie resistenze per poi andare a eseguire la funzione plot all e andare a salvare il grafico su file e anche a mostrarlo in tempo reale. Quindi se volete eseguire lo script di tutte le celle in un colpo solo potete andare su kernel e fare restart and run all. Vi mette un pochino per esecuzione perché i tempi degli algoritmi per calcolare le resistenze e le trendline non sono banali. Vedete? Ci siamo quasi. E in questo caso vi voglio mostrare proprio il concetto che vi dicevo prima per quanto riguarda le time frame. In questo caso vedete che i valori del grafico candele di Ethereum sono abbastanza schiacciati perché noi scendiamo a scaricare tutti i dati che abbiamo a disposizione del 2015 e in questo intervallo di tempo Ethereum ha raggiunto anche un prezzo di 1400 dollari che viene appunto riportato da una resistenza. Lo stesso per tutte le altre intermedie fra il prezzo attuale e i prezzi storici. Se noi vogliamo andare invece a dare più dignità al grafico di Ethereum quindi andando escludere le resistenze vecchie cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirgli di scaricare dei dati solo più recenti. Quindi andiamo magari dopo il 2018 dopo che ha toccato comunque i massimi Ethereum e facciamo sempre Restart Run All. In questo caso dovremmo vedere solo resistenze più recenti e non così vecchie. Infatti ecco qua vedete che è stata sfondata l'ultima resistenza di 487 dollari proprio di recente. E vedete anche che è stata rilevata questa trend line sui massimi questa sui minimi e sostanzialmente anche questa è stata sfondata negli ultimi tre giorni. Mettiamo invece come stavo facendo prima un asset più tradizionale come Amazon. Rifacciamo sempre la stessa procedura quindi Restart and Run All. Ecco che invece possiamo monitorare l'andamento di Amazon. Naturalmente adesso ve li sto mostrando direttamente dallo Upyter Notebook però invece nessuno vi vieta di andarvi aprire le immagini. Come potete vedere per ogni esecuzione che si fa su un particolare asset le immagini vengono salvate su file nella stessa folder nel quale è presente il codice del notebook quindi possiamo tranquillamente andare ad aprirle. Adesso apriamo anche Ethereum così le vediamo in questo caso. Il vantaggio di aprirlo direttamente da file è che l'immagine è nettamente più risoluta quindi si può andare a zoomare senza andare a perdere definizione dell'immagine. Va bene ragazzi per questo video è tutto. Naturalmente è un codice che ho sviluppato nell'arco di un giorno quindi sicuramente possono essere implementati dei miglioramenti. Se avete delle osservazioni da fare fatele pure, cercherò di valutare se implementarle, cercherò anche di inserire degli approfondimenti nel caso fossero richiesti e come sempre sono a vostra disposizione. Lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto e ci sentiamo alla prossima. Grazie mille a tutti!